Come abilitare o disabilitare la funzione Power On Lead Open su alcuni notebook Dell, cioè permettere di accendere il PC quando viene aperto il coperchio. Riavvia il laptop e quando viene visualizzato il logo Dell, premi ripetutamente il tasto F2 per accedere al BIOS del sistema. Una volta all'interno del BIOS, nel pannello di sinistra, fai clic su Power, Alimentazione. Scori verso il basso fino alla sezione Interruttore coperchio, Lead Switch e disattiva l'opzione Accensione coperchio aperto, Power On Lead Open, per disabilitarla. Questa funzione in genere viene abilitata di default dalla fabbrica. Se l'opzione Power On Lead Open non viene visualizzata, vuol dire che il tuo notebook non la sopporta. Fatta la scelta, clicca su Applica le modifiche, Apply Change, poi esci con Exit e il computer si riavvierà. Se desideri riattivare questa funzione, esegui gli stessi passaggi e scegli Attiva. La tua versione del BIOS potrebbe essere diversa da quella che abbiamo presentato nel video. Dipende se sono versioni precedenti e quando è stato acquistato il PC. In tal caso puoi verificare sul manuale dell'utente per sapere come agire sul BIOS. Clicca sulla scheda in alto per accedere al video dove spieghiamo come ritrovare i manuali del tuo PC. Se hai dubbi su questa opzione, scrivici qui o tramite Twitter su Dell'Aiuta e Dell'Aiuta Pro e verificheremo insieme. Abbonati al canale e guarda gli altri nostri video per trovare altri consigli sull'utilizzo e manutenzione del computer. Ciao e a presto!